Convertiti all'amore di Dio. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Ascoltiamo il Vangelo di oggi che ci viene dato dal capitolo 15, versetti 1, 3 e 11 fino al 32. In quel tempo si avvicinavano a Lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre, padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e lasper però il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse Quanti salariati di mio padre hanno pan in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide. Ebbe compassione, li corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre di sei servi. Presto, portate qui il vestito più bello e fatelelo indossare. Metteteli l'anello al dito e i sandeli ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e li domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita era perduto ed è stato ritrovato. Amen Carissimi, oggi in questo capitolo quindicesimo chiamato il capitolo dell'amore delle tre parabole della misericordia di Dio noi innanzitutto dobbiamo comprendere una cosa queste parabole oggi abbiamo ascoltato la terza ed ultima parabola che è quella del padre misericordioso comunemente chiamata anche come la parabola del figlio al prodigo sono indirizzate verso alcuni destinatari molto precisi i pubblicani, i peccatori, i farisei e gli iscrivi abbiamo quindi due fasce di destinatari due parti la destra e la sinistra sono delle persone differenti e potremmo dire anche degli estremi un'estrema destra e un'estrema sinistra e non c'entra nulla con la politica c'entra con uno stile di vita cioè coloro che pubblicani e peccatori erano esclusi dalla legge erano esclusi anche da una elezione per il mestiere che facevano per le scelte di vita per la dissolutezza nel comportamento e nella loro vita stessa quindi loro vengono identificati con il figlio minore quello che decide di scappare da questo padre buono, misericordioso che aveva molto per fare la propria vita mentre abbiamo dall'altra parte i farisei e gli iscrivi che seguendo precisamente puntualmente la legge ma non solo anche i propri precetti basati sulla legge ne avevano più di 600 a quel tempo loro si comportavano in una rigidità molto molto forte tale da condannare chiaramente i pubblicani e i peccatori ma condannare anche le persone normali loro sono identificati in questa parabola come il figlio maggiore ecco che Gesù sta parlando a questi due estremisti potremmo dire a coloro che sono lassisti quindi ma sì io non c'è non mi interessa anche se ci fosse faccio la mia vita vivo come voglio io e dall'altro aspetto invece ci sono quelli che così è scritto questi sono i comandamenti questi sono i precetti della Chiesa bisogna pregare bisogna adempere ogni cosa che la Chiesa stessa dice che Gesù ha detto però là non c'è lo spazio per l'amore per il respiro e ricordiamoci bene cosa dice la parola e Gesù lo ha ripreso Dio Padre non vuole la morte del peccatore ma che Egli si converta e viva e in realtà qui non abbiamo solo i pubblicani peccatori di mestiere che erano lontani da Dio ma anche i farisei e gli iscrivi anche loro erano lontani dall'amore di Dio lo vediamo in questa parabola non hanno mai fatto esperienza dell'amore di Dio pur essendo nella stessa casa del Padre pur leggendo ogni giorno la Sacra Scrittura rispettando lo Shabbat il sabato rispettando ogni legge ecco che loro non fanno non hanno fatto l'esperienza dell'amore di Dio addirittura non hanno accolto Gesù Cristo che è colui del quale hanno parlato i profeti da Abramo a Davide fino alla sua venuta quindi inserito nella legge stessa che è stata consegnata al popolo eletto di Israele questi scrivi farisei erano lontani dall'amore di Dio erano aggrappati alla legge non a Dio questi peccatori erano lontani da Dio e lontani anche dalla promessa ma Gesù cosa ha fatto attraverso di Lui noi siamo stati riconciliati con il Padre quindi figlio maggiore figlio minore tutti e due sono sullo stesso livello non c'è il migliore il peggiore c'è un Padre che è misericordioso e guardate che è una conversione che noi dobbiamo fare nella nostra mente nel nostro cuore perché è facile condannare i peccatori o condannare coloro che si aggrappano la legge alla verità alla dottrina Dio è al di sopra di tutto e anche di questi estremi e la sua superiorità non consiste in una giustizia umana bensì in una misericordia senza limiti quella che noi non conosciamo non sperimentiamo e nemmeno oggi potremo comprendere perché Dio ama così tanto il peccatore lontano da lui dalla sua legge lontano anche dall'uomo perché lo uccide mente e fa di tutto contrario a Dio perché ama allo stesso modo anche coloro che sono tarati mentalmente e non vanno al di là di una legge di alcune prescrizioni religiose Dio è amore e come dirà poi l'Apostolo Paolo Giovanni dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà chi ama è libero chi si lascia amare da Dio è libero allora la conversione che oggi in questo tempo di Quaresima Dio ci chiede è quella di convertirci al suo amore non importa se siamo più il figlio minore o il figlio maggiore non importa se siamo addirittura un po' tiepiti e viviamo un po' di qua un po' di là Dio ci ama e Dio vuole che facciamo parte del suo regno soprattutto facciamo l'esperienza di avere un Padre che ci ama ecco la conversione perché noi quando sperimentiamo che Dio mi ama così come sono con i miei limiti con i miei difetti con le mie fragilità ecco che questo amore senza nessuna barriera io lo verserò sugli altri anche io mi comporterò come lui verso i peccatori e verso i figli maggiori potremmo dire allora chiediamo al Signore un cuore libero un cuore che innanzitutto si lascia amare da lui e poi quello che riceve attraverso lo Spirito Santo lo dona agli altri grazie Signore Gesù grazie perché il tuo amore è davvero forte il tuo amore è grande Signore io non pretendo di comprenderlo perché sono un uomo non lo posso capire non posso capire perché tu mi continui ad amare malgrado le mie infedeltà le mie fragilità le mie debolezze i miei peccati i miei vizi ma ti ringrazio Signore grazie per la tua compassione verso di me aiutami aiutami a convertirmi a questo amore e ad essere perfetto come tu lo sei nell'amare gli altri amare i figli minori ribelli lontani da te e i figli maggiori che a volte sono loro che forse mi allontanano da te perché sono immersi in una legge dove tu non ci sei Signore donami di avere un cuore aperto un cuore libero un cuore che ama e un cuore che sperimenta la tua misericordia a te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli Amen allora carissimi amici lo slogan di oggi è proprio questo convertiti all'amore di Dio è una bella conversione dobbiamo abbassare i nostri schemi le nostre barriere lasciarci amare da Dio per amare come Lui ama noi grazie che mi avete accolto buona giornata ci vediamo domani ciao carissimi sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online San Girolamo ha detto l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola le sue promesse dal nuovo all'antico testamento iscriviti sul nostro sito parla signore perché il tuo servo ascolta parla mi signore ti ascolto parla signore perché il tuo servo ascolta parla mi signore ti ascolto a conoscere a conoscere